Welcome to MiroTV! Ragazzi sono qui per parlarvi dell'ultima puntata di Smackdown Live post Wrestlemania 35 e mi sono preso un po' di tempo per confermare questa mia frase mi è piaciuta più la puntata di Monday Night Raw che la puntata di Smackdown Live questa è la faccia un po' sorpresa perché mai, mai, sarei mai azzardato a dire una frase del genere ma quando ci vuoi, o meglio, quando bisogna essere sinceri, tanto vale esserlo tanto sti cazzi però voglio difendere subito Smackdown Live, perché voglio difendere subito lo Showblu? C'era tanta, tanta, tanta paura per diversi atleti Age Styles è infortunato, ma il suo infortunio non è assolutamente preoccupante un piccolo problema all'anca per lui sappiamo le condizioni di Remistirio che comunque ha lottato ad essere minima per un minuto ha lottato da virgolette, ma pure lui potrebbe tornare nelle prossime settimane in maniera molto molto tranquilla dovrebbe partecipare anche allo Shake Up secondo le ultime novità poi c'è stato un altro infortunio, quello di Daniel Bryan quello di Bryan è un infortunio che preoccupa più di tutti perché sappiamo le condizioni fisiche ma anche mentali di Daniel Bryan che dopo ogni match deve sostenere un certo tipo di test che lasciamo perdere, proprio lui e poi aggiungiamoci anche altri infortuni che è inutile stare qui all'incarni uno a uno quindi ragazzi l'assenza un altro Demitz, Demitz ragazzi che però non è infortunato, grazie a Dio Demitz è stato mandato a casa per vendere quanto ha fatto Shane McMahon o meglio della vittoria di Shane McMahon a Breast 1035 contro di lui e poi abbiamo visto che anche Shane ha ripetuto il promo Hill vantandosi anche questa grandissima vittoria sul Magnifico io spero ovviamente, iniziamo subito con Shane McMahon visto che stiamo parlando spero ovviamente che Shane McMahon e Demitz riprendino questa faida e la portino a Money The Bank magari in un Money The Bank later match io sfido chiunque ragazzi a non mettere Demitz e Shane per un match, in un match del genere in un match del genere cazzo, non per, in un match del genere perché se tu lo metti in un Money The Bank later match è un altro spot della Madonna a mio parere ti preparo a vedere un altro spot della Madonna spero ovviamente che sia così, che Shane e Miz culminino la loro igualità al prossimo pay-per-view che se non mi sbaglio è il 16 o il 17 maggio quindi ragazzi speriamo ovviamente che sia così e ora possiamo cominciare con il parlare della puntata e vi ho dato le mie spiegazioni perché abbiamo visto secondo me davvero qualcosa di spiegabile come McIntyre e Strowman a SmackDown ma cerchiamo di dargli anche una spiegazione, perché no? Proviamoci quantomeno allora ragazzi, la puntata si è aperta con il promo dei New Day io allargo sempre le braccia perché quando vedo il promo di New Day a me mi piacciono, anche quando loro cercano di non far ridere fanno ridere perché poi se ti rivedi il segmento di Big E pure nella puntata di SmackDown Live ti prende la risa a te, a me mi rendeva da ridere Big E fa qualcosa di straordinario poi c'ha pure la terza gamba con l'uomo Dio mio come cazzo rola fa, allungasse così tanto non lo so, non lo so minimamente però ragazzi è stato un promo di New Day abbastanza sincero, poco simpatico perché dovevano ammettere la loro ammirazione verso il nuovo campione WWE infatti prima parla Xavier, poi parla Big E o viceversa avrò un ricordo e ragazzoli miei alla fine prende parola anche il neo campione WWE colui che ha battuto Daniel Bryan a Bristol Mania e si prende ancora un'ovazione importantissima dal pubblico di Brooklyn classico promo anche di Kofi che più o meno va a ripetere quello che ha detto a Raw anche se lo fa un po' più di cuore andare a indicare anche la sua famiglia lì vicino alle balaustre che separano il pubblico dal quadrato e per me è stato un buon promo e viene interrotto ancora una volta da sti cazzo rola di The Bar che sono diventati il team più odiato della WWE soltanto perché sono intervenuti in un match alla cazzo di cane tra Seth e Kofi Kingston si prendono un bu tremendo i The Bar ragazzi sono diventati il team più odiato di sempre le verità coiuso sono stati solo a stare adesso tutti li odiano e The Bar continuano a dire noi facciamo come cazzo allora ci pare siamo rientervenuti e ci siamo portati con noi anche un amico pronto ad affrontarvi stasera insieme a noi nel main event io non avrei mai pensato di sentire la team di McIntyre figuriamoci di ritrovarmelo a guardare a SmackDown Live ci sta? secondo me ci sta ma per il discorso che vi ho fatto prima mancavano troppi atleti a SmackDown Live per fare una portata importante hanno sfruttato il fatto che sia McIntyre che Braun Strowman non hanno partecipato nell'ultima puntata lo show rosso ovviamente si sono fatti i loro calcoli perché tutto il roster era a Brooklyn hanno fatto dei calcoli e secondo me soprattutto Braun Strowman ci sta come idea almeno poi ragazzi voi siete liberi di scrivere quello che cazzo non la vi pare poi vi vedrò anche perché ci sta Strowman e quindi vediamo passiamo subito al 3 contro 3 perché quando andiamo a vedere New Day contro The Bar e McIntyre possiamo storcere un pochino il naso dopo una pubblicità proprio dopo l'ultimo spot di McIntyre che lancia sul tavolo Xavier sparisce lo scolzese lo scolzese sparisce dal ring ci ritroviamo a guardare le notizie su tutti i siti anche quelli americani oddio che cazzo di fine ha fatto Drew McIntyre arrivano subito a conferme che McIntyre potrebbe essersi infortunato perché se ne è andato via manco è passato per la rampa è passato accanto alla rampa è sgusciato via dalla rampa nessuno se ne è accorto ovviamente manco i cameraman hanno inquadrato il tutto e quindi subito un po' di preoccupazioni su McIntyre infortunato poi lui si toccava la spalla qualcuno ha detto forse sei infortunato come se mi zenni gli volevano forse tirare qualcosa io ho detto ragazzi andiamoci piano perché mi sembra un po' troppo esagerato avrebbero comunque giustificato sta assenza invece alla fine abbiamo scoperto o meno io sentendo Meltzer ho scoperto che la WWE ha fatto sparire McIntyre perché non voleva inquadrarlo in un'eventuale sconfitta delle barche che poi è arrivata effettivamente se noi prendiamo gli ultimi 2-3 minuti di contesa possiamo anche scordarci dell'idea che le bar fossero costeggiati che altro accompagnati da Drew McIntyre perché negli ultimi 2-3 minuti sembrava un handicap match sembrava un handicap match quindi la sconfitta io la do più che altre dei bar poi giustamente nell'armanacco ci scrivono che anche McIntyre ha perso sta contesa ma forse ci sta questa idea ci sta anche perché vi ripeto il discorso lo star power non me lo fate ripete possiamo anche chiuderci un occhio secondo me Smackdown Live settimana prossima si presenterà con tutta l'altra puntata anche il cane è d'accordo ma ragazzi ma è giusto così perché non è che poi fa chissà quale colpo di scena se settimana prossima c'è lo shake up e anzi però è lanciato delle basi secondo me interessanti è fatto pensare probabilmente a qualcuno che McIntyre potrebbe andare a Smackdown e distruggere il New Day e distruggere il New Day e non più lo shield lo shield l'ha distrutto ora perché noi facciamo distruggere anche il New Day suggestione importante ma spero che Drew McIntyre resti a rope e andare a rivalità o continuare qualche rivalità o che cazzo ne so io spero di vederlo nel Money the Bank e la Termatch e giocarci la possibilità di staccare la briefcase per il titolo di Rollins non per il titolo di New Day di Coffee Kingston spero che sia così spero che questa suggestione qua l'abbiano accantonata perché McIntyre per me deve rimanere uno show rosso ma andiamo avanti successivamente abbiamo avuto Ali Black e il buonissimo Ricochet contro Nina Karusev e Andrade allora ragazzi allora riespitiamo un attimo Babyface vincono un match secondo me incriticabile per il fatto di minutaggio secondo me è stata anche una buonissima contesa nulla di più ma non dovevano dimostrare chissà cosa visto che non c'era chissà cosa in palio però per me dovevano vincere perché dono vincere il Inaka Rusev ragazzi teniamoci in discorso che dopo Andrade sembra di essere capaci di ottenere risultati importanti soltanto contro le Misterio quando secondo me è uno dei migliori atleti che ha la WWE accompagnato da un'ottima manager tra l'altro c'erano la mezzalina come manager non so la cosa hanno fatto il pubblico di Brooklyn se stavano a guarda quelle o il match ma tralasciando questo particolare ragazzoni miei ragazzoni miei Andrade andrebbe gestito diversamente spero a sto punto che vada Raw addio Piannico e Misterio ma sti cazzi Andrade ha bisogno di spazio televisivo ha bisogno di match importanti sarebbe bello vedere Andrade contro l'Hollins sarebbe bello vedere Andrade contro Balor ma non penso che questo lo vedremo almeno credo poi non si sa che questi so pazzi Andrade potrebbe anche rimanere a show blu e ora parliamo di Naka Rusev che i tre babyface che vincono c'è poco da dire ragazzi possiamo giusto dire che Ali ha preso l'archeio di Orton ma secondo me ci si passa sopra poi è bellissimo il segmento con Orton che fa quella cosa con i fari puntati addosso non ci vedo non ci vedo riprendendo i fatti del loro match vs media contro Styles ma facciamo altri argomenti ancora e parlando di Naka Rusev ragazzi io non ce la faccio a me Nakamura inizia a fare davvero pena Nakamura mi inizia a fare pena perché sembrava un infermierino dopo che Rusev è stato colpito da un Kevin Owens con la stunner Nakamura sembrava l'infermierino non c'è andato manco l'ana a fare l'infermierino c'è andato Nakamura a chiedere Rusev tutto apposto come stai bello di mamma ti ha fatto male opporino mamma mia se lo ribecco ragazzi Nakamura non si può vedere così può essere antipatico simpatico ma no è bruttissimo che sto Nakamura qui spero che lo draftino spero che lo ritornano face perché sto Nakamura qua ragazzi è imbarazzante è imbarazzante sotto ogni punto di vista citando Antonio Conte non lo so a me mi fa pena a me mi fa pena ragazzi questa è la verità io spero ovviamente che ci sia un'altra gestione per questo lo spero vivamente perché non si può continuare così non si può continuare così con Nakamura se proprio lo devi tenere a 40 anni fai e fa altro rendilo interessante in un'altra maniera non lo so fai e fa dei segmenti stupidi comedy a sto punto tanto gli riescono facilmente pure quando era illa inizio quando faceva l'intervista con René Young era simpatico ma lasciamo stare questo argomento basta se no spacco tutto poi abbiamo avuto diversi promo come vi avevo detto nel commento dei ragazzuoli Bray Wyatt sarebbe apparito sicuramente anche nello show blue con questo promo parecchio copia e colla qualcuno ha detto potrebbe essere una nuova versione di Mick Foley qualcosa di simile al classico U-Pass di Mick Foley andiamoci molto piano secondo me con i paragoni vediamo un po' come verrà gestito il tutto eppure è vero che settimana prossima ci darà lo shake up e Bray Wyatt dovrà avere un roster perché non mi piace l'idea che questo possa apparire ancora una volta a SmackDown a Raw SmackDown a Raw perché poi abbiamo visto i free agent già a NXT non si capiva più che cazzo stanno a fare Nicky Gross prima sembra che doveva rimanere a Raw con Alicia Fox Alicia Fox l'anno accantonata e Nicky Gross l'hanno rispostata a SmackDown e ci ha avuto un po' poca roba EasyTree se non gli assegni il roster già fa così fa cagare secondo me che non riesce ad avere una storyline non riesce a una gestione poi lo trattano in maniera imbarazzante addirittura con Drake Maverick si dice che abbia combattuto addirittura hanno ripreso roba ma lasciamo questa storia poi che ci sta la Sea Evans è l'unica che sta giovando questa cosa a parire Raw SmackDown Raw SmackDown adesso inizia anche a darle bene perché se Baggy va Raw SmackDown Raw SmackDown e lei essendo una free agent può andare Raw SmackDown Raw SmackDown e menare tranquillamente Baggy Lynch in questa puntata lo rifà un pugnazzo tremendo per Baggy che stavolta non riesce a ribattere visto che stiamo parlando di Baggy Lynch pare confermato Baggy Lynch contro la Sea Evans a Monit & Bank sono un po' perplesso perché la Sea Evans rischia di arrivarci senza aver fatto manco una contesa spero che combatta contro qualcuno che la squosci in due minuti ma staremo a vedere e vi dicevo Wyatt deve essere signor roster secondo noi settimana prossima se no ritorniamo con il discorso che i free agent Raw SmackDown Raw SmackDown sono abbastanza inutili perché non puoi assegnargli una verità non puoi assegnargli assolutamente una bella rivalità solo la Sea Evans è riuscito a fare qualcosa di intelligente con tutti gli altri ragazzi provi di Machinery andiamo avanti poi dopo tutti sti promo promo di Baggy promo di Wyatt parliamo anche del promo di Artruth e Carmela Artruth si complimenta con Carmela dice bravissima hai vinto la 3 the giant battle royal memorial si è stata straordinaria firma menatografo Carmela dice ma che stai a di Artruth ho vinto quella femminile guarda lì che bel trofeo a proposito se l'hai portato dietro a differenza durante 3 star che se l'ha scordato quello lo ripropone più o meno come fece Naomi 2-3 settimane se lo scordano ma vabbè il promo addirittura Carmela il discorso di Carmela viene interrotto da Samoa Joe Carmela ha spalancato questa viene a meno a me Samoa Joe viene a menare a me invece se la prende giustamente Artruth lo spappola prende il microfono in mano classico promo di Joe che ricorda la bellissima sfida avuta contro le misteri di Astralmania l'ho battuto in un minuto posso battere chiunque addormento chiunque arriva quindi Braun Strowman e qui ci soffermiamo un po' perché con l'arrivo di Braun Strowman ragazzuoli forse cambiano un po' le carte in tavola ma non che Samoa Joe con questa possibile ritva rimarrà secondo me a SmackDown no secondo me Samoa Joe verrà draftato a Raw e si ritroverà a Strowman Strowman quindi lo vorrei confermato a Raw anche se con questo segmento ci hanno un po' confuso le idee non è che McIntyre e Strowman mi drafta secondo me no secondo me no anzi il contrario secondo me Joe va a Raw e Finn Balor va nello show blu ovviamente con i loro titoli rispettivamente il titolo degli Stati Uniti e il titolo intercontinentale qualcuno potrebbe farmi notare ma non hai letto la notizia che può essere che riuniscono il Buller Club con Stiles Balor e quell'altro i due lì Gallos e Henderson si ragazzi l'ho letto ma i Good Brothers hanno il contratto in scadenza a settembre non sembrano che lo vogliono rinnovare la WWE offre contratti solo per 5 anni secondo me sarebbe una cosa abbastanza inutile magari fa una storia che dura 2-3 mesi e poi chiudi baracca a questo punto mi tengo Joe a Raw costruisco il titolo degli Stati Uniti che negli ultimi 2-3 anni se non di più è stato il titolo più imbarazzante a mio parere del man roster ora c'è una buonissima opportunità per dargli una certa importanza con Joe e Stroma che forse meriterebbero ancora di più ma magari riescono a rialzare il livello di questo titolo come fece Demitz come fece Rollins chi lo sa lo spero ovviamente perché come campioni ci sta come number one contender ci sta come prester ci stanno come azioni del pubblico ci stanno il pubblico ama tutte e due per motivi diversi ovviamente secondo me devono gestire così spero che la base che abbiano buttato durante sta puntata di Smackdown sia stata intelligente e non alla cazzo di cane è questo il discorso finale spero che abbia un'idea a differenza di McIntyre che spero non abbia avuto una vera una vera come si può dire una vera conferma nel senso del fatto magari buttando McIntyre a Smackdown Live lasciamo pensare che McIntyre possa essere trattato nello show blue e distruggere anche il New Day dopo aver distrutto giustamente lo Shield spero che questo non sia un discorso che abbiano preso in considerazione ma quello di Stroma quello che ho fatto adesso spero ovviamente che sia così poi che abbiamo avuto Iconics poco da dire Iconics che si confermano geniali per difendere i loro titoli già nella prima puntata di Smackdown Live mentre post vanno contro delle sparring partners scelte ovviamente da loro ho detto loro sono grandissime campionesse pronte a difendere a ogni puntata e lo fanno subito con stile contro le sparring partners geniale per la loro gimmick certo ci mettono un po' troppo a battere le sparring partners addirittura rischiano di perdere la contesa con roll up ma ci sta soprattutto per introdurre il segmento di Page una volta che Iconics finiscono la loro contesa si ritorna nel backstage a Page che stava guardando il match viene avvicinata dall'intivistratice mi pare che sia no non mi ricordo il nome nel senso evitare gaffe e ragazzuoli Page annuncia che settimana prossima sarà a Smackdown o a Raw questo non l'ho capito sarà comunque on screen con il suo nuovo team non penso siano Mandy Rose e Sony Evil per me non avrebbe senso visto come la stanno costruendo piuttosto Mandy Rose costruita in singolo mandatela Raw fatenele fare un segmento stile dei Mitz quando Trillian Morrison non so se voi tutti ricordate io farei una cosa del genere ah Trillian Mandy Rose mettiamola da parte purtroppo parliamo di Page chi cazzo sta portando Page secondo voi nella Woman's Division spero vivamente io subito ho pensato ragazzi ho fatto il collegamento così questa porta Yoshirai e Keresain ragazzi ci starebbe Keresain e Yoshirai purtroppo non parlano bene inglese hanno bisogno di una figura come Page che comunque può essere anche ironica e secondo me visto il promo che ha fatto porterà un team face e non heal perché se fosse stato un team heal avrei pensato in un primo momento anche a Vanessa Borna e a Lia però non penso penso che siano Keresain e Yoshirai quelle quotate a essere promosse settimana prossima nel M-Roster lo spero vivamente sarebbe geniale come cosa con Page che le rappresenta ragazzi Page che le rappresenta a livello di promo non puoi dire nulla a mio parere a Page una delle migliori degli ultimi anni quando si tratta di promare intrattenere non solo per la sua bellezza ma anche per proprio carisma che non hanno perché immaginate voi fosse stata Asuka ad annunciare una cosa del genere non avremmo capito un cazzo a mio parere però andiamo avanti speriamo che siano speriamo che non siano Nel Jax e Tamina non so come ho pensato anche a Nel Jax e Tamina ma fa culo ha detto che sono un nuovo team creato da lei quindi boh no creato vabbè comunque addestrato sta roba qui andiamo avanti ragazzuoli oh altro promo di cinema ne abbiamo parlato a inizio puntata quindi il nostro main event è gli Hardy Boys contro gli Usos diciamolo diciamolo che possiamo essere contenti ma allo stesso tempo scontenti contenti perché gli Hardy Boys ad aprile vincono sempre titoli di coppia questo è l'ottavo titolo di coppia per loro meritatissimo uno dei migliori tag team della storia secondo me live wrestling e non degli ultimi 20-30 anni dall'altra parte però c'è stata sconfitta degli Usos ma questa sconfitta perché è arrivata ragazzi perché è arrivata perché sti due devono andare a Raw ma da quanto tempo però lo stiamo dicendo che questi due devono andare a Raw è arrivato il momento giusto come perché è arrivato il momento giusto secondo me sì la sconfitta degli Usos per quanto fosse giusta serve anche per lanciarli magari a Raw e la cosa importante la cosa importante ragazzuoli che Zack Ryder e Kurt Hawkins hanno sfidato Jeff Hardy e Madardi con un altro winner take all match pensate se gli Hardy Boys vincono perché io non posso credere che questo team di Kurt Hawkins e Ryder battano gli Hardy Boys faccio un video spoco che spacco tutto no ma ma seriamente ragazzi seriamente e quindi magari Jeff Hardy e Madardi vincono anche quelle cinture lì poi le mettono in palio proprio a Raw contro gli Usos la vincerebbero però stavolta gli Usos e si ricrea la women's division la tag team division di Raw in maniera intelligente perché poi non è che drafti solo gli Usos magari drafti The Bar ma è pure vero che non può mandare avanti sempre The Bar con gli Usos quindi che ne so punti sui vimachineri intanto inizi a creare i vimachineri non scordiamoci di Brizango qualche tag team da rivitalizzare secondo me c'è anche a Smackdown si può fare qualcosa di intelligente anche la Sanity anche la Sanity a Raw la Sanity a Raw i De Vavalli di portare a Smackdown sempre si restano sempre si restano perché ha iniziato tantissimi dubbi su questa cosa quindi secondo me se si gestisce tutta così la cosa con gli Usos che poi tra qualche settimana tornano campioni stavolta a The Raw mentre vengono creati anche comunque storyline intelligenti per le altre per le altre team cazzo perché devi draftare secondo me i De Bar e la Sanity sicuramente li di portare i De Vavalli li porti da qua Chad e Bobby ci sarebbe da fare un discorso troppo lungo quindi spero ovviamente che sia così che la sconfitta dei Usos e i Jeff Hardy e i Matardi nuovi campioni serva a questo poi non si può secondo me discutere più di tanto sul match perché doveva semplicemente accadere il passaggio di testimoni il passaggio di titoli per arrivare con quel segmento settimana prossima sono sicurissimo questo gli Hardy Boys contro i Usos possono fare di più ma hanno bisogno anche più minutaggio hanno bisogno più anche un po' di storyline perché è stato un match annunciato a cazzo di cane post-Restlemania gli Usos vengono da un buonissimo match proprio nell'ultima azione di WrestleMania quindi sono sicuro che rivedremo un altro Hardiz contro gli Usos lo spero quantomeno lo spero ragazzuoli staremo a vedere se è davvero così la parola lascia a voi penso che parlare di tutto ma no è arrivato Lars Sullivan poi che vi avevo detto all'ultimo commento Lars Sullivan si ripresenterà anche allo show blu e lancerà un altro messaggio Lars Sullivan è un free agent a differenza di Semi-Zen che è apparso ma soltanto per fare il coioncello lasciare il microfono non benvenire niente è arrivato e ragazzuoli Lars Sullivan attacca sia Matadi che Jeff Hardy lancia un messaggio molto molto interessante Lars Sullivan ma ragazzi se a questo non gli dai nella storyline importante fin da subito fidatevi di Milo se perde perché se questo continua a fare attacchi per due mesi non andiamo a nessuna parte poi Lars Sullivan per me è un wrestler che non è il mio non puoi paragonarlo a Keith Lee non puoi paragonarlo a Braun Strowman come Big Man almeno a mio parere poi ognuno è libero di fare quello che vuole oppure criticarmi che ho detto che Strowman oppure Keith Lee è meglio per me è così ragazzi questa è la mia opinione Strowman è migliorato con gli anni sicuramente anche Sullivan migliorerà con gli anni sono contentissimo che Strowman abbia battuto gli attacchi di panico spero ovviamente che sia così glielo auguro vivamente glielo auguro vivamente la parola ora però la lascio a voi ma non solo su Lars Sullivan ma su tutta la puntata di Smackdown Live vi è piaciuta oppure se è la mia idea che settimana prossima vedremo qualcosa di più interessante sfruttando anche lo shake up fatemelo sapere con bel commento spolliciate commentate condividete iscrivetevi al canale qualora vista da Mir è tutto to sweet super Grazie a tutti.